ciao ragazzi vi presento l'ultimo arrivato podium dd1 ps4 adesso faremo insieme l'unboxing non vi nico che l'emozione è tanta ok ecco qui il secondo scatolo stagiamo la terra eccolo qui quanto pesa ragazzi ed eccolo qui tutto il suo splendore poniamo di nuovo un attimo qui il telefono sganciamo 1 2 dovrebbe aprirsi eccolo qui mamma che bello dio ragazzi quanto è bello stupendo stupendo anche il blu di un colore eccezionale molto molto meglio dal vivo che in fotografia nei video meramente meraviglioso sarà un problema adesso metterlo sulla challenge in attesa che arriva la nuova postazione track racer tr8 vabbè penso che per ora è tutto poi vi aggiornerò con la recensione e il montaggio a incerto in attesa infatti in attesa in attesa Grazie.